Un caro saluto a tutti e un ben ritrovati anche questa sera per una nuova puntata dedicata alla rubrica dell'Oasi della Cagranda. Oggi trascorreremo insieme una giornata all'interno di quest'oasi, percorreremo un itinerario insieme e vedremo anche dove è possibile sostare all'interno di questo percorso. La Fondazione Patrimonio Cagranda promuove l'iniziativa dell'Oasi della Cagranda per valorizzare il territorio di Milano, di Lodi e di Pavia. E andremo alla scoperta insieme a questa iniziativa di tantissimi paesaggi dell'agricoltura, della natura, dell'arte e della storia, che non sono altro che un mix magico di questi luoghi. Di tutto questo ne parliamo questa sera con il mio ospite, il cui studio, al quale do il benvenuto. Ritroviamo Filippo Tramelli, responsabile comunicare. Allora Filippo, abbiamo parlato nelle scorse puntate di tantissimi itinerari, oggi siamo curiosi di scoprire quello di cui ci parlerai questa sera. Qual è? Allora, mi piace... Durante tutti questi appuntamenti che l'Oasi della Cagranda offre tantissimo, sia per gli amanti di questi fantastici borghi, e soprattutto chi vuole visitare dei luoghi di storia, dei luoghi di arte, potremmo dire, no? E poi anche tutte le antiche, diciamo, vie d'acqua, come i navigli, anche quello intatto, originale, sembra veramente un posto da... Ho citato l'Abbazia di Morimondo, visitiamola insieme attraverso questo video. Filippo, abbiamo visto, diciamo, durante questi appuntamenti, le campagne. Le campagne sono delle terre ricche di prodotti di qualità, anche di prodotti. I terreni, diciamo, è un'agricoltura che dà molta attenzione, fa molta attenzione a quello che è il rispetto per l'ambiente. E tutti questi prodotti che vengono coltivati all'interno di questi terreni si possono anche gustare all'interno degli agriturismi. Questo ambiente sia tutelato e valorizzato, le persone lo devono conoscere. Ecco, questi terreni che, ricordo, hanno anche una grande storia, perché ha l'ospedale maggiore di Milano, che ha le risorse che arrivavano da questi terreni a curare le persone. E quindi la Fondazione Patrimonio Cagranda si prende appunto cura di quello che è stato donato. Esatto, il risultato è, diciamo, prodotto di qualità, prodotto a chilometro zero, che, come dicevamo, si può gustare all'interno dei vari agriturismi che ci sono all'interno di questi percorsi. E a proposito di agriturismi, vediamo insieme l'agriturismo Cascina Selva di Morimondo. Questi video sono sempre molto belli, in questo caso ci hanno dato anche dei, diciamo, nel corso di queste puntate, ma se volessimo vederli ancora, se un telespettatore volesse riguardare questi video, dove li può trovare? Insieme a quelle che sono le iniziative che proponete, si possono trovare sul vostro sito. Cioè, sito. Vi ringrazio per essere stato qui con i nostri amici da casa, per averci seguito, e vi auguriamo una piacevole serata.